L'amministrazione Melucci non è assolutamente in grado di far fronte alle emergenze riguardanti la sicurezza dei cittadini. Veniamo al sudo, mi trovo a Taranto in via Ancona nel tratto compreso tra via Blandamura alle mie spalle e dinanzi a me in fondo via Cesare Battisti, qui in questo lungo tratto di strada ad altissima velocità, ad altissimo scorrimento delle auto purtroppo continuano a verificarsi gli incidenti. Macchine che sfrecciano e pedoni che vengono investiti o addirittura macchine che vengono colpite, oggetto vittime di scontri. È accaduto anche sabato scorso e vi forniamo le immagini che, ci scusiamo per la qualità delle stesse, immagini amatoriali fatte così durante la forte pioggia che si è abbattuta su Taranto. Bene, proprio qui davanti una signora è stata investita. C'è stato un episodio, l'ennesimo, che testimonia la pericolosità della zona. E proprio qui siamo in prossimità del luogo in cui è avvenuto l'incidente sabato scorso. Vedete, ci sono le strisce pedonali. Ma a che servono queste strisce pedonali se poi non ci sono degli strumenti atti a far rallentare gli automobilisti? Il cittadino, il pedone, transita sulle strisce pedonali ma viene sbalzato in aria. Ecco perché dico, occorrono gli strumenti tecnici idonei a evitare i continui incidenti. Abbiamo sottolineato, io come consigliere comunale, ho più volte, ripetutamente sollevato la problematica, ma anche gli esercizi commerciali. Penso qui abbiamo un bar, caffetteria, abbiamo una pizzeria che purtroppo si vedono impotenti, si ritrovano ad assistere a questi episodi, come è accaduto sabato perché si trattava di clienti di questa attività commerciale. Allora qual è la soluzione? L'amministrazione comunale in molti casi ha disposto la soppressione dei dossi. Ma bisogna vedere, i dossi non sono vietati, i dossi o rallentatori di velocità o come volete voi. Si possono installare a determinate condizioni, se rispettano certi criteri, possono essere allocati i dissuasori in determinate tipologie di strade. Qui una soluzione si deve trovare, perché qui le macchine sfrecciano, soprattutto la notte. Allora non mi venite a dire mettiamo i vigili urbani, come pur l'amministrazione ha detto, perché sì li puoi mettere di giorno, ma non penso che alle due o alle tre di notte ci possano essere i vigili urbani. Allora vogliamo mettere un autovelox? Non so se è fattibile lo stesso. Una soluzione sarebbe quella di mettere dei, ripeto, dissuasori di velocità, dei rallentatori, previsti, normati secondo quanto prevede il codice della strada, quindi lo ripeto, rispondenti a tutti i requisiti rigorosi richiesti, ma bisogna garantire qui la sicurezza dei cittadini. L'amministrazione comunale, caro Assessore Ciraci, massimo rispetto per te, ma non potete, tra virgolette, lavarvele le mani, non potete dire sì ma le macchine sfrecciano qui. Dovete trovare i rimedi, dovete approntare le soluzioni, dovete mettere i rallentatori, non volete mettere i rallentatori, si mette l'autovelox, si mette qualsiasi strumento idoneo a evitare le tragedie. Cosa rispondete, cari signori dell'amministrazione, alla famiglia della signora che è stata investita? Cosa le diciamo? Cosa diciamo ai cittadini a rischio? Che qui è una zona così, è pazienza, dovete fare le preghiere per non essere travolti? Ma stiamo scherzando, guardate, questa diventa una pista di Formula 1. Allora se noi andiamo a intervenire, mettiamo le pattuglie, chiaramente, mettiamo le pattuglie in accordo con le forze dell'ordine, per fare i posti di blocco, per appunto limitare la velocità, ma un sistema perenne, continuo, è quello del dissuasore. Oppure non lo so, l'autovelox, ma non credo che sia possibile metterlo. Ma un fatto è certo, qui non si può continuare ad assistere alle tragedie. L'amministrazione comunale si deve assumere le sue responsabilità, non può, ripeto, lavarsi nelle mani e stare a guardare. Allora, caro Ciraci, caro Melucci, meno chiacchiere e più fatti. Le chiacchiere sono assai a tardo, come si suol dire. Allora, intervenite, questa zona, la vedete, non deve diventare uno scempio, non deve diventare una sede continua di tragedie, queste strade non si devono macchiare di sangue. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.